Amici e amiche di BPM Power, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo del Backup Plus Hub di Seagate, una soluzione di memorizzazione completa. Diamoci subito un'occhiata da più vicino. Il design è semplice e le sue dimensioni sono rispettivamente 41 mm di larghezza, 198,1 mm di profondità e 118 mm di altezza. Queste unità sono disponibili con capacità fino a 14 TB e in una versione con hub USB 3.0. Questa è da 4 TB. La massima velocità di trasferimento dati è di 160 MB al secondo. Grazie alla compatibilità con più piattaforme e alle eccezionali affidabilità e velocità è possibile eseguire il backup praticamente di qualsiasi contenuto. Volendo è possibile eseguire il backup dei file, delle foto e dei video preferiti dal PC utilizzando il software di backup di Seagate, ma comunque il funzionamento dell'unità disco non richiede alcun software specifico. L'unità desktop backup plus hub offre doppi vantaggi perché integra in un'unità per desktop con capacità fenomenali sia un hub completo per i dati sia una stazione di ricarica. Infatti grazie alle due porte USB integrate nella parte frontale è possibile eseguire il backup di tutti i file, delle foto e dei video preziosi, nonché connettere e ricaricare tablet, smartphone e fotocamere, anche se il sistema è spento o in modalità in sospensione. Facile da usare e compatibile sia con Windows, Windows 7 o versioni successive, che con Mac, MacOS X 10.7 o successive. All'interno della confezione troverete l'hub backup plus di Seagate, il cavo USB 3.0 per il collegamento a un computer e il cavo di alimentazione. Potete trovare il backup plus hub di Seagate sul nostro sito bpmpower.com cliccando sul link riportato qui in basso in descrizione. Se non lo avete ancora fatto vi invitiamo a iscrivervi sul nostro canale YouTube, mettere un mi piace sulla pagina Facebook e seguirci su Instagram. Ciao a tutti e al prossimo video!